Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Utrend sulle intenzioni di voto politiche nazionali è andato in onda sulla 7 nella trasmissione Omnibus. Vediamo che la fiducia nel governo è al 39,5%, il 53% dice di non averne e il 7,5% non si esprime, quasi il 40% di fiducia, un dato dopo due anni a Palazzo Chigi tutt'altro che trascurabile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. A presto.